Ma è il test della gravidanza? No, ma un pennarello. Ah, minchia. Ti prendo un colpo. Secondo te io ho il cazzo piccolo o grosso? Eh, poi ho il calo ieri. Beh, allora, facciamo... Non lo so. Dimelo tu. Zecca, il gioco è quello! Eh, poi, tipo... Piccolo o grosso, non è che è tipo così? Dillo, vai dillo. Non voglio pensarci. Vai, dillo, dillo, di una cosa, di... Tipo, normale. Piccolo grosso ti ho detto, non c'è normale. E allora dico piccolo. Al culo, Samantha! Al culo! Raga, non è una cazzo. Al culo! Ehi, al culo! A meno che non ce la fai vedere. Cos'è che hai detto? Niente. Cos'è che hai detto, ragazzi, in chat? Non diteglielo. Non diteglielo. Cos'è detto? Qua servono le prove. Aspetta. No! Guarda che ti blocco su Instagram. Ho messo pure il filtro natalizio. Dai, va bene. Vai, guarda. Guarda e regisci. Faccio anche due cuoricini. Guarda e regisci, adesso in live. Dai. Allora, Instagram. Oddio, mi ha mandato una foto davvero. Aspetta. Devo vederlo sul telefono. Sì, sì. Aspetta. Certo, aspetta. Certo, ne aspettiamo. Dai, ci sta. Stai scherzando, ovviamente non è, ma troppo del cazzo. Minchia, pensavo dicessi che non era vera, almeno, che non fosse vera. Vabbè, niente. È finto, ovviamente, ragazzi. Come non era vera? No, non è mia, quella. Guarda che adesso non è che devi mentire, perché c'è la gente in live. No. Non l'ho mandata io. No.